Lui è colui che ha alzato la qualità del video Salve gente e bentrovati su TCG Television Da Daniel Damiano Un intruso ovvero Alex E Scla Grande ritorno dopo tanto tempo sugli schermi Come potete ben vedere abbiamo di nuovo i Mega Power Stings Collection Come vi avevo promesso sarebbero tornati E torneranno in uno sfidozzo di spacchettamenti In cui ognuno di noi tre Ovvero Damiano, me E Scla Apriremo un pacchetto alla volta per ogni espansione A partire da Primark Crash, fuori volanti eccetera eccetera Fino ad arrivare a evoluzioni E vedremo un po' chi sbusterà meglio Espansione per espansione In questa sorta di sfida a punti Sono 8 espansioni perché la confezione contiene 8 boost di 8 diverse serie Ci sono ovviamente le 4 X Full Art di Jolten Mega Manectric, Mega Lucario e Zegard Che questo è anche scavallato Un po' il mio E' mia questa scatola C'è Zegard che vuole uscire fuori Chissà perché Forse anche puzza la scatola Vabbè Bungio e le cianci Cominciamo a unboxare queste scatole Tirare fuori i pacchetti Che andranno a comporre la sfida E andiamo anche a vedere Le varie carte X contenute all'interno Eccoci qua siamo pronti ad unboxare questa scatola E nel frattempo che unboxiamo Abbiamo scoperto Pochi minuti fa Quali sono le espansioni che usciranno dal formato Si pensava oltre a Final Crash Rony Skies e Ancient Origins Suscisse anche Breakthrough Cioè quella di Mega Mewtwo Invece Mega Mewtwo rimane all'interno del formato standard Per cui io sarò contento Sempre se si potrà giocare Ci sarà anche il Mewtwo GX Tra poco a fargli compagnia Adesso sentirete un bel po' di casino Tanto qua è già finito io Con quella della camera Ed eccoci qua Via la scatola Ovviamente le X Ve le faccio vedere una volta sola Tanto si ripetono tutti noi Infatti Zycardi è rimasto giù È rimasto indietro Come si suol dire Quali c'è sta sotto Fare molta attenzione a sfilare queste carte Dalla Collector Ecco qui le 4 Full Art X Che avevamo già visto nell'altro video Ve le vi faccio vedere Abbiamo Joltron X Proveniente dall'espansione di generazioni Come vedete qui sotto Il logo della promo Non è più XY Con il numero a seguire Ma è A Perché all'uscita di questa espansione Dal formato standard Usciranno anche queste carte Non si potranno rigiocare Mega Manectic È già uscito dallo standard È il simbolo di forze spettali Che all'interno di questo pack non c'è Poi abbiamo Mega Lucario Il protagonista di questa colletta Particolare è la foilatura di queste Full Art Non è come quelle dell'espansione Ma Un tema diverso E poi abbiamo Zygarde X Che a mio avviso è la più bella Delle 4 Full Art Guardate i riflessi di luce Al movimento della carta Quanto rendono Scala non è d'accordo Sentiamo un po' il perché La più bella è la mia figura No Zygarde Come foto o come immagine è la migliore Non c'è poco da discutere Magari lasciatelo nei commenti Fateci sapere secondo voi Qual è la migliore Full Art Poi abbiamo Il ventaglio Per l'estate Del 2017 Mega Lucario X Forma ventaglio Per sventolarsi Nei giorni affosi come questo E poi I famosi 8 pacchetti Climal Clash Rony Skies Break True Vabbè viene dopo Face Collide Qui dietro abbiamo il codice Per sbloccare le X Full Art Nel gioco online Abbiamo Break True Ancient Origins Evolutions Che è l'ultima E Steam Siege Che è la penultima Ed infine abbiamo Anche il codice E scusate Il legame mentale Con Mega Lucario Bene direi che Tutti e quanti Abbiamo preparato I nostri pacchetti Adesso sistemiamo Un attimo L'inquadratura E facciamo Questa bella sfida Eccoci qua Abbiamo allestito Arroccato Per così dire Questo banchetto Dove poggeremo Le nostre spocchettate E a giro Abbiamo scala a destra Damiano a sinistra Io sto qua dietro la cam Spacchetteremo A partire da Primer Clash Ovvero l'espansione Più vecchia Che mi pare Forse del 2015 Febbraio 2015 Chi incomincia? Vado Ah Vado a incominciare Scla Con Mega Anzi Archeogoodle Non si vede Quando facevi Inizio Attenzione Mettiamo No Questa carta A indicare Il centro Dell'inquadratura Così Non vi sbagliate Non ha capito Ok E' sti cavoli Sta là Tant'è Come era il trick C'è due qua Sì sì Trick vecchio Tick di XY Anche di nero e bianco Skitty Tangela Tricot On edge Meditite Mi avevo scordato il nome Nidoquin Era non comune È vero Marshtomp Qua ci stavano Le Come si chiamano Tratto antico Le tratto antico Anche un treat Marshtomp Che io giocavo Bunnelby Che si giocava Le versi Non comune Mascherane E La rara Un ancient treat Mi sa Eh sì A me Diciamo Che tra l'altro E' una Delle rare Un ancient treat Che Non Che si giocava Si giocava Almeno L'inizio Non era neanche male Ambitata Interessante Inizia a scavare Con una rara Un ancient treat Ovviamente No c'è un problema Noi 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 c'è un problema Un po' generale Santo prosegue Damiano 3 Ok Perfetto Zigzagoon Tricot Volpi Rire Volpi Double Double Professor Bers Observation Lanthorn A che verso Anzalabere Se non male E poi E Ant ancient treat Gorebis Alla cacca Però c'è più Medici a me che gore Pissio Per dire Tocca a me Due ancient treat Io dovevo starmi di nuovo Con Allora c'è un po' C'è questa possibilità Starmi C'è un po' Chietta La tua scelta Quella 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 Tanto Ormai Shining Shining Il codice È girato Quindi Lo togliamo Via il pacchetto Uno Due Tre Via Dietrich Cut Fibas Skitty Trico Wannabe Widow Liveball Questa ce ne ho due sole Quindi è la terza Wonder Energy Che bello Liveball Electriche Reverse Tangela E La rara di tipo Fuoco Ninetales Che non era neanche male All'epoca Quello che non faceva Spaccare gli stati Se non sbaglio Poteva essere giocato Nel mazzo Di Mega Ryguaza Quando ti mettevi il campo aereo Almeno non te lo rompevano Può riuscire Il di pace Andro Poi si va con una Delle edizioni Più Non abbiamo trovato nulla Nessuno dei tre Quindi situazione di parità Adesso trocca a Skla Con Furie volanti Utilizzare i piccoli Clickbait Un ex Ogni espansione Un ex Uscirà in 24 Pacchetti Qua c'è il regano Unico 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 Scla Scusa Posso Così Eh Non ci ho fatto caso Che è successo Che è successo Che è testato Questo video è un po' Meo Pikachu Non abbiamo dimenticato qualcuno Wynonna Executor Dragonair Oh Secondo me c'è C'è la stessa Dove c'è Ma che c'è Lascia fa Lascia fa Lascia fa Lascia fa Lascia fa Ammazzate raggi Vabbè 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 Almeno Un bell'artwork Sembra Sembra Snoopy Sua È la casetta De Snoopy Vabbè La testa è mai sbustata Tenta aiuto il pubblico Qua Io che trovo l'ex Tocca Alex In realtà è Damiano Che fa spacchettare Alex Che cagata Ormai Vabbè Tanto stai fuori Dall'inquadale Venga 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 Qui Non sento sotto Perché porta male Che stai a fare Zwa Blu Nincada Pidob Pancetta Pancetta Begon Begon Megadurbo Eletriche Megadurbo Vabbè Già Già Qualcosa Poi Campo aereo Piro Far E poi Deoxys Olo Un punto Un punto Verdariano Vediamo un po' Che l'altra volta In Errori Sky Se trovai una ex Stavolta Ne dubito Che accada Io non mi ripeto Vabbè Rara Poi Olo Poi ex Poi Un altro Poi Poi riseri Codice Via No Sempre rara Rara Rarara 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 È uguale Rarara Hopela Gligar Binacle Meo Kaskun Inkai Healingskarf Dicono che c'è Che di che è Iven Reverse Carbink Poi che sta incollata Oh È Full Art Sembra Rai Quazzo Da sotto È nera È Dragon No È Dragon È Drago È Drago È Bassa Mega Latios X Full Art Tra l'altro Ho trovato normale Inizia a diventare Una persecuzione Tra l'altro Altra cosa Vi rimarco Dall'altra volta Le 9 ex Le ristampe Perché fuori volanti Ricordiamo È stata ristampata A causa di termine Delle scorte Sembrano quasi finte Al tatto Maledio Sì Mi sembrano diverse Dalle altre Sono lui Sì sì Sono lui Ma proprio le ex Pure C'ha una consistenza Particolare Se ne farsi Riconosci Pikachu ex Se chiamarei Gold ex Vabbè Non so dire Se sono quelle cinesi Però Comunque Rarisk Ice Mi porta bene E passo in vantaggio Tiogri Tiogri Invece di Tiogri Ancent Origins Ancent Origins E quindi Non mi può fare Il bar Di 60 E ora Si è visto Un ex Oh Basta Tutto Lo dice Questa Fa nessun Per Secondo me Più si aumenterà L'espansione Più Secondo me È meglio Che nessuno parli Evitando di portare Sfiga Porygon Ah no Bell Doom Di Pongo Ah è vero Con la mia Connessione Di Bell Ne ho quasi 20 Flareon Se rigioco Per poco Shelf Spillink Amen Gloom Se sempre giocato Per Viper Fa Se già Nel Plante Se Desidua Che cacchio Se ritira qua Metagross Ancora Uncentrite Sfiga Il re Delle Uncentrite In questo caso Che è da A Mesa Vediamo Uncentrite Secondo me Uncentrite E l'espansione Damiano Non sai che c'è Che c'è Che ne ha Bomba Per dopo Perché se Tutto Spansione Se gioca No Quindi Sclite Sclite Che le Lascia Il vantaggio Poi Bomb Che l'ha Ammazzata Rinaldi Questa Uba Uba Bullati E basta Asci Esci Basta Vetti No Basta Sta volando Tutto Ventilatore Sto facendo Volare Il mondo Non vedo Molto Platoni Platoni Ralts Golett Givi Fadetown Sliggu Level Ball Incaire Verts Mamma mia E Algeritos Ancient Treat Che si è rigiocato Ultimamente Un mazzo No Non so se Se giova ancora Però girava Fino a poco fa Il suo mazzetto Ancient Origins Con Upa Speriamo che Ci porti Un'altra X Però Se il numero È limitato Di X Spero Arrivino dopo Qui il codice Sta messo Ben Aie E Spizzate Candestine Ivi Incai Magikarp Bufer Gumi Lucky Helmet Ariados Anch'io Giant Panforest Ariados Di nuovo E Acciaio Anch'io Questo è Metagross Non l'ha Centite No E Regi Stile Wow Lo cercavo All'epoca Quando uscì Adesso basta All'epoca È lento È arrivato Molto Proseguiamo Con i pacchetti Che rimangono Nel formato Standard Per un altro Anno Breakthrough Breakthrough Breakpoint Cosa uscire Cosa rimarrà Di questo Alla prossima Rotazione Secondo me Salta anche Evoluzione Che c'è Codice 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 sta girando Quindi a posto Non tastare Se non ci rovini Lo spoiler Non spoiler Please Oggi è 15 luglio Ci sono un paio di cose fighe Quest'oggi Che stiamo Questo giorno Stiamo registrando C'è la conferenza C'è il Va bene Parliamo dopo Cattoli Wow Heavyball Ecco perché Questo Snoopbull Di Pongo Eee Cresselia Cristelia Glisteria Ce lo dovrei avere a casa No No Casa No Casa Eee Dicevo C'è la L'Expo Vabbè Siamo neanche a metà Ragazzi Calmi Calmi E' se stavano un paio dei primi E' qua dovevo sti Ah bomba a vesticità Ma a me Da che E' uscita Dico ad Alex Che prende il posto Di Damiano Dicevo C'è la Ci sono le conferenze Disney Questi giorni presentano I nuovi trailer dei film Si ha Marvel Star Wars Disney proprio Novità Perca sempre Disney Novità In ambito videogames Dovrebbe Sui Dovrebbero annunciare qualcosa Su Kingdom Hearts Pansia Meo Di nuovo Miao Floet Burning Energy Buona Bedenne Nutut Reverse Oh mio Dio Mario C'è la cosa che vuoi tu? Silenzio di dom L'amarezza Tocca a me va Vediamo se Undum Mega Undum Mi porta a Mega Undum Poi vuoi fare C'è va ancora Tanta volta I dodici pacchetti Vediamo quanti X Però puoi fare il titolo Clickbait Ogni pacchetto Una non X Non X Così lo guarderanno Tutti Così non lo guarderà Nessuno Io Penso che neanche qui Troveremo nulla Misdreus Misdreus Swablu Flabebe Exio Scatterbug Black Sien Piloswine Undum Spirit Link Qualcosa di Undum C'è Ah Carta Turbo Oh Marowak Turbo Che bello E Folletto Aromatis Vabbè Forse ha trovato te Mamma mia Che culo Una Turbo Poi Marowak Non è che di Tu la stai vincendo Abbiamo trovato Domani Roark Turbo Ciao Hai dato una caffa Di riferimento Sì Sì Scusate Questo è il centro Del tavolo Questa è la rugna Proprio E tutti i rettatori Qui Ma scusa E allora Lucario Spirit Link Cambia un po' Mettici No Mettici Mettici Bell Boom De boom No Ho tirato Che bello Il cazzesco Di breakthrough out Breakpoint C'è breakpoint Perché c'è andata Mega newton Non è uscito Breakpoint C'è roba Anche non è C'è Green Ninja Green Ninja Mega Turbo Già Trovare La Vabbè Tranquillo Ci sono Le censure Tanto tempo Che io monterò Il video Ragazzi Non hanno messo Due mesi Vari Ora Dovevano scegliere Te ne mette Mi i pacchetti Sì Non vale Che le tasti Ceruvini A sorprese Cicorio Rizzo 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 Ancora acciaio Ferro Ferro Tornera Tanto meglio Devi smeritirlo Chiedere l'imborso Questo qua Lui c'è il diverso Quelli americani C'hanno L'immagine Alcune volte Hanno le carte Di invento Anni macchine Ci siamo accolti Qui c'è il turbo Qui c'è il turbo Qui c'è il turbo Vediamo Qui c'è il turbo C'è il turbo E' andato il bellum? Ti sei mangiato Scusate E' la carta più bella Bellum 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 Scusate Scusate Scorubsky Che se ne pure hanno No no Scorubi Scusate L'uplo Però Gartier Bono Tattata Revers E E E E E Uno L'upper ora ti servirà del mazzo dark age si gioca hit si ma vuoi non la vuoi al lato eh lascia faccio buy point anche per me cioè minimo devo trovare una pomma che ha risalto pulante per se non mi raccoglia tutto il passo no c'è 4 ex e già solo quelle vargono full art solo quelle vargono tutto vargono un tiro vargono uno spazzo guarda a voi a voi ragazzi che cazzo dire vanno che dico cominciamo con petilil scorubbio ancora stario ancora screlpa ancora crick e tot basta in balun professor platan regame mentale con geridos garbodor reverse eee elettro zebstraica 89 vabbè vai mezzo schifo però io mettere questo solo per perché non ne stavo capito perché perché che cosa zigard sarà spostato da quegli pacchetti via io posso come fai giochi a giochi ma se mi fai stagionare un pochino come fai a lui questi sono stagionati proprio per quello c'è per quello che c'è c'è se uscite 5 anni fa no scherzo sì ma non spizzate tutte le carte non ho capito ma che c'è un cazzo non devi non spizzare cioè mh 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 c'è niente non devi vedete che volete non puoi saltare via il video all'opera tipo i pubblici da skip e skip il pacchetto dopo vai al pacchetto c'è cino no no possiede caputo non mi c'è da caputo ops eh mh ah mi io in tutti i bambini oh purio no 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 ammazza è piatto vabbè dai poi sogniamo con l'evoluzione bisogna fare un po più gonfio c'è questo secondo me lo sta a me meglio che c'erano autistico c'era su simsigi che c'era? su simsigi c'è una c'è il folletto МУЗЫКА unintilato mi sta facendo ahi tutti i pacchetti boole madame un pupitare Energy reset la red ac e cotoni Oh mio Dio Reggio Case E il present di Reggio Case E' uscito un'altra X C'è Alex Non è il mio doc Se trovo lui Turbo Questo è già 8 ore Ho trovato Ma cattina Olo Poi penso se potete dare via L'unico X Il suicidio La Viene da qui dove Tutti i bachetti e soccato Ti sono finiti dentro Ragazzi Spoint Tanto è andato via Beldum Gotita Fennekin Meo Larvita Cincino Devolution Spray Duosion Lugia Reverse Stacatta non c'è l'anno ormai C'è Oh Oh Chi è Chi è E' Psycho Chi è Mega Alakazam X E dai Clap clap E ritorna di nuovo Un vantaggio Doom di nuovo Andatelo a recuperare Il tuo cazzo di bed Che voglia la colla Incollate il bel doom A quel foglio Uno scala demoralizzato Ormai Aspetta Fanno senti No non parla A passare Non c'è C'è codice No C'è manca il codice Ci stanno anche le carte C'è una tavoletta De legno Ci stanno Quella Sara Che è uno A detta di card game Uno dei giochi Più giocati Bella Sara Che c'hanno Troppe spedizioni Nella Sara C'hanno Un tigore Rimpagnare Larvesta Diffloom Paunier Sidor Kling The Watt Ma tu c'è poca energia Ma luce Secondo me c'è qua Forse No Ponita No L'Otta Scusate Di prego Oddio C'è sta quasi a far Perfetto Della merda C'è Sette su otto C'è No no Non le reverse Non le Hex niente Il peggioro Quelle box Della storia mai visto Da otto pacchetti Basta Intanto E' l'attesa Dammiano già Sistemato Sì Già Mamma mia Vabbè Capita una zoomer in doppio ninja boi c'erai quattro oh shawo l'ultima è una volcani l'unica è araboa l'unica è araboa che posso trovare non lo trovo possiamo lasciare scala l'ultima palla oppure li vuoi spacchettare per ultimo ah no tocca ancora a me dal atto io immagino mi ero tirato fuori io sono più forte ai 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 dovrei lavorare sui tanti succede succede anche questo purtroppo non tutto si può lasciare a caso vi è il codicons ragazzi io sento puzza di ex sento puzza di ex bergmite joltic mantiene no scherzo clink ponita quale che senti pazzate cacca questo me manca ciao guarderoy spirit link clef game mi sono pure comprati fa ui reversa cloucher comune e la rara no scherzavo è una rara qui è quelli la rigenerati qualche fossile che bel nasone eccolo double coppia di nasi di ultimo il sole la se scala se scala trova mega charizard xy full art ha vinto tutto Z anche Z ha dovuto usare la sua dattica finale se no qui non c'è niente come lo sento Charmander Diglett Drauzi Caterpie Brok Magmar Glowlit Leverse non ho trovato energia e di tipo fuoco ancora non mi dica niente peggio Arcanine raro e finisce qui il mio spacchettamento con un X full art un X e una turbo un po' meglio dopo Reggie Rock X cercherò di fare non la migliore X nella migliore full art non la migliore tour effettivamente l'X ha trovato però a ricordi logica seguendo i fatti la carta migliore l'ho trovato da Alex che reggiro meglio di un amaro proprio turbo Wither ElectroBuzz Rousey Starium Energia Metallo Poliweird Revive Slowbro Spiritolino la Reverso Nantes Brake e ora con una full art di parecca ecco non si trova un bel dubbio che disegno i capelli così ho trovato la Brake comunque è stato uno dei pochi a trovare qualcosa quindi momentaneamente la classifica è voglio ancora il cilento voglio la tavoletta d'eccesso per spacchettare voglio la tavoletta d'eccesso per spacchettare voglio la tavoletta d'eccesso per spacchettare dai te reggi niente sfondo nero questa lì come la sua spacchettata e infatti me puzza eeeh bongbotto mua manco faccio il trick posso prendere come te pari eeeh una volta sta devi dire forse era buone ore rimaniamo per dubbio finabile Vulpix no no ho visto hai visto? sono sono mi sento città onyx mechica ergiata evoluta devoluzione sprago me lovo professor ho la scinta che c'è c'è pure 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 L'ultimo pacchetto, che probabilmente vale più dei mega lati o se me la Kazama è sincero Andiamo, e mi sa che me lo tengo pure E' sfidato, è sfidato Mamma mia, fino all'ultimo pacchetto Sulle spalle 7 ragazzi Però non sei riuscire a far filotto otto orale su otto pacchetto Te sei rovinato all'ultimo Te sei rovinato Si, te sei rovinato a comprare la sua pacchetta Però io lo sfondo nero ha portato bene Dovi fatti tutti a sfondo nero Grazie E' diventato il bottino finale Il bottino, ma pure le apri No 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 Ma mettiamo giò E' un altro bottino serio Sae serio, parolone Ma quattro dei brac? Rule 2x, 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 2x 2x, 2x 2x, 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 2x Mi ha due il burro, la trovo 2x, 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 2x 2x, 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 2x finita finita sei carte diciamo ultralare la media una ogni 4 pacchetti beh diciamo che si anche se in uno c'erano 3 però oddio non è che sto Mario 4 Turbo avrebbe cambiato la vita no anzi beh ragazzi questo mega spacchettamento termina qui 3 mega powers collection sono state aperte oltre la quarta già visto spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando fatecelo sapere con i pollici in su in giù e con i commenti se arriviamo a 300 mi piace sbustata in live camo 100 e io pure per apriotta 100 mi piace sbustata in live di sole e luna 3 della terza espansione di sole e luna guarda in cielo noi vi salutiamo da parte di Damiano di Alex che si è intrufolato di Sclap e di me ciao 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 ciao